L'amministrazione comunale di Battipaglia ha aderito alla manifestazione Alberi per il Futuro 2018, un'azione di partecipazione ambientale per celebrare la festa degli alberi che si svolge ogni anno in tantissime città italiane il 21 novembre. L'iniziativa Battipaglia consisterà nella messa a dimora di giovani alberi nel nascente giardino della nuova scuola Sandro Penna di Battipaglia. L'iniziativa Battipaglia consisterà nella messa in dimora di giovani alberi nel nascente giardino della nuova scuola Sandro Penna. L'evento si svolgerà domenica 18 novembre a partire dalle ore 10. Gli alberi che saranno piantati rappresentano il primo atto per la realizzazione del giardino scolastico, che svolgerà in maniera continua una funzione didattico-educativa a supporto dei programmi scolastici legati alle scienze naturali, alla qualità del cibo e alla cultura in genere. Il progetto è stato redatto ed offerto dall'agronomo Luigi Vicinanza. La scelta di piante autoctone, i criteri di posizionamento e le modalità di coltivazione previste fanno di questo intervento un progetto pilota per la diffusione di buone pratiche per un verde pubblico di qualità.